L'unità preposta all'ammissione della carta di identità elettronica garantirà comunque la propria attività negli orari pomeridiani di lunedì e giovedì, limitatamente all'utenza già munita di apposita prenotazione. In una nota redatta dal dirigente degli affari generali pubblicata sul sito www.comune.battipaglia.sa.it viene chiarito. Si porta a conoscenza della cittadinanza che in concomitanza della chiusura pomeridiana degli uffici comunali, l'unità preposta all'ammissione della CIE garantirà comunque la propria attività negli orari pomeridiani di lunedì e giovedì, limitatamente all'utenza già munita di apposita prenotazione.